Buongiorno, allora cosa prendiamo? Ehi, un momento, comunque non ho fame, ho mangiato un po' a pranzo, prendo solo un bisapp. Ok, io invece... Buongiorno signori. Buongiorno, dunque io prendo... Io vorrei un bisapp, un bisapp fresco. Bene signora. Allora per me un panino con carne, un avocado e una coppa piccola. Ah, avete la banana? Beh, questo mi va. Allora la banana per la signora? Oh, ma anche la papaya. Sì, sì, e anche un tè. Ma hai già ordinato il bisapp? Ah, già vero. Beh, allora niente bisapp, prendo un tè. E per me anche un... Prima o dopo il panino? Prima, anzi dopo. Ho capito. Allora ripeto, per la signora... Ciao Valeria, come stai? Sono un caffè con Lorenzo. Poi un po' di shopping, poi incontrato Lorenzo. Ciao. Ti saluta. Ma dai! No, è Lorenzo che mi sta dando noia. Ci si, la coca è andata mi vuoi. Non, ci si fa e o che ci vuoi. No, ci si fa e o che ci vuoi il tè. No, ci si sa This... Non, ci si. No, ho detto che non lo volevo più. Un caffè? No, veramente, avevo detto dopo il panino. Panino? Io qui ho una banana e una pataia. Ho ordinato solo la banana. Che confusione.